Guardate che viene questo filmato, guardate questa idiota, guardate questa cretina, guardate questa imbecinda, guardate questa che sta in chiesa e innaccia e chiama la polizia. Perché chiama la polizia? C'è uno che sta rubando, c'è uno che sta besteggando, no? Non ha la mascherina messa giusta sul naso e sta in ginocchio. Povera cretina, 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 che Dio ti maledica! A te all'altro vecchio idiota che viene, e fra un attimo appare un altro cretino, un vecchietto, che fa così, esca dalla chiesa, esca dalla chiesa, chiamiamo la polizia. Le regole, le regole, le regole per pregare. Pensate se si può essere più stupido, guardate questa faccia da razzista, così erano i razzisti, così trattavano i poveri ebrei. Così, uno va in chiesa e prega, e questa cretina dice, vada fuori, chiamo la polizia. Imbecille, cretina, che Dio ti maledica! Ti meriti peggio di quello che stai facendo a quel povero signore che sta in ginocchiato. Guardate, 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 non si può stare in ginocchio, non si può stare in ginocchio, non si può stare in ginocchio in chiesa, perché c'è il covid. Imbecille, imbecille, tu e le tue regole, imbecille! Le regole, c'è una regola perché non si può stare in ginocchio. Guardate, 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 il prete... Guardate, guardate, questi due poveri creativi che cercano di cacciare un fedele. Guardate, gli dà un dito. Che Dio li maledica, che Dio li maledica!